bello a tutti ragazzi sono smiley e oggi siamo tornati con la carriera con l'averton ecco vedete anche il titolo è tuo a secco di gol quindi vuol dire che non siamo andando tanto bene anche se abbiamo fatto 2-0 all'anfield contro il liverpool una partita difficile ci aspetta l'arsenal andiamo subito a giocarla vediamo prima la formazione però vediamo se dobbiamo cambiare qualcuno stanno tutti bene però vorrei far giocare qualche qualche ragazzino tipo questo qua che si chiamava junior mettiamo a posto di meccarti e poi voglio fare ormai deve essere titolare azzù che ha fatto una grande partita contro il liverpool andiamo a giocare eccoci qui al godison park everton contro arsena doveva vincere per risalire e per fare più punti e per risalire il campionato subito ci prova lukaku subito lukaku da fuori gioca subito l'averton dalla bandierina il cross in mezzo destan già due volte vicino al gol siamo partiti come un razzo non facciamo entrare no 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 se ne supera due palle occhiano la palla al centro il tiro e gol che gol è? ma che gol è? ma che gol è? occhiano l'arsena su calcio d'angolo la giocano vicino il cross in mezzo destan e poi il tiro fuori meno male pala junior e poi azzù azzù è un missile azzù il tiro di azzù parata e poi stacca junior che non arriva non possiamo concedere questo errore no il tacchetto il tiro fuori numero di casorla passaggio a rossischi chiusura ancora casorla il tiro di casorla fuori occhio a Wilshere l'arsenal ancora in attacco con well back well back il tiro di well back fuori meno male meno male ancora per l'ennesima volta il pallone esce fuori dalla porta lukaku la bestia se ne supera due la bestia va la bestia la bestia lukaku il tiro di lukaku parata discesa non so come si pronuncia prendiamo destan e cerchiamo di segnare eccola non va occhio al tiro di miralas da fuori la deviazione ancora calcio d'angolo la gioca vicino mettiamo il cross ecco azzù la traversa 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 e finisce il primo tempo concludiamo il primo tempo con una traversa sta vincendo l'arsenal 1 e 0 ma ci poteva anche stare un nostro gol va bene lo stesso cerchiamo di farlo in questo secondo tempo palla di tu vede azzù azzù si accettra il tiro di azzù il palo il palo di azzù incredibile non ci credo no 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 non lo facciamo tirare non lo facciamo a guarda miracolo prendi sto e che fai vabbè vabbè oh oh fallo giallo caccia cartellino arbitro oh cartellino rosso e non dobbiamo approfittare in questi ultimi dieci minuti palla da azzù che se ne deve andare in velocità ora azzù azzù in velocità azzù in velocità il cross in mezzo lukaku eccolo eccolo lukaku rovelu lukaku la bestia che progressione di azzù e poi rovelu lukaku che sa che il palo rovelu il 9 a 10 la bestia lukaku grande baines e finisce la partita 1 a 1 contro l'arsenal un buon risultato l'abbiamo approfittata negli ultimi minuti con una grande progressione di azzù che scoperta azzù e ora un'altra grandissima partita difficile cioè contro il manchester united azzù ci ringrazia per per l'elevato minutaggio e poi allora alcaraz mister anche se non sono il primo nome sulla lista dei titolari ritengo che dovrei avere più spazio alcaraz giocherà contro il manchester united allora questo non ci interessa azzù sono in ottima forma e sto giocando bene ultimamente per questo sono rimasto soppeso per non vedere il mio nome fra i titolari voglio scendere in campo no ma non ti preoccupare scendi in campo dall'inizio allora giochiamo la partita magister united ed everton gestione squadra allora esce piena entra azzù e poi alcaraz ci ha chiesto di giocare noi lo accontentiamo lo facciamo giocare al posto di giaglietta e poi vorrei far giocare e poi vorrei far giocare vabbè nessuno dai così va bene la formazione gioca partita ci aspetta una partita difficilissima contro il manchester united eccoci qui allontrafford si gioca manchester united ed everton inquadrato felani il capellone batte il manchester united è come abbiamo fatto contro il liverpool abbiamo vinto 2-0 in casa in casa del liverpool dobbiamo fare lo stesso qui contro il manchester dobbiamo portarci 3 punti a casa però occhio subito a runey che è pericoloso il tiro di fellaini fuori ma fallo per il manchester united occhio a runey il tiro di runey alta meno male runey ci ha aggraziato qui lukaku 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 viene atterrato in aria calcio di rigore calcio di rigore per l'everton e lo dobbiamo sfruttare nel migliore dei modi sulla palla sicuramente andrà bainz infatti è così numero 3 layton bainz sulla palla è buona layton 1-0 allontrafford mamma mia mamma mia layton bainz è buono lo stesso mamma mia che palla il tiro parata di lindegard buona la palla per azzu 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 in trenaria azzu il tiro di azzu è un fenomeno è un fenomeno azzu mamma mia il numero 19 azzu facevamo giocare piano che sbaglio che facevamo all'inizio ora abbiamo provato azzu ed è un fenomeno eccolo qui il numero 19 azzu azzu lukaku ha dato la palla ai tu ma l'arbitro fischia finisce il primo tempo 2-0 allontrafford che partita che sta facendo all'Everton ma soprattutto che azzu è un fenomeno e tu ci prova con destro alta direttamente sugli spalti pericoloso occhio a Runei il tiro di Runei sembrava dentro e ancora una volta Runei ci ha graziato per la seconda volta in questa giornata Valencia è velocissimo occhio il cross in mezzo è solo perché solo? meno male che ha sbagliato ma perché era solo? Coleman va va Coleman prova un destro Coleman di pochissimo a lato finisce la partita 2-0 allontrafford contro il Manchester United tre punti d'oro sono tre punti d'oro in totale sono quattro punti d'oro conquistati contro Arsenal e Manchester United e saliamo al nono posto buono vediamo Azzu cosa ha da dire ci ringrazio per averlo mandato in campo e noi lo ringraziamo per la sua prestazione ci possiamo lasciare anche qui come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like commentate condividete iscrivetevi al canale lascerò il link della pagina Facebook in descrizione ci vediamo nel prossimo video bella ragazzi grazie grazie